L'emergenza Covid non ha affermato l'attività amministrativa al Comune di Nocera Superiore. Ne parliamo con il Sindaco Giovanni Maria Cofono, un'attività intensa che porta alla realizzazione di varie opere pubbliche. Un'attività intensa di programmazione che oggi vede raccogliere alcuni frutti, alcuni interventi già realizzati e consegnati alla città, altri in corso di realizzazione. Siamo stati ultimamente beneficiari di un finanziamento di 2 milioni e 4 che finalmente darà una visione completa al centro cittadino. L'aria contigua alla Casa Comunale diventerà la casa delle arti e dei talenti che potrà ospitare i tanti giovani del territorio che oggi non hanno un luogo fisico di incontro e confronto. I tempi di realizzazione dell'opera? Adesso attendiamo il decreto definitivo che dovrebbe giungere in questo mese e poi partiremo con la gara d'appalto. Contiamo sui primi mesi del 2022 di poter dare inizio ai lavori e per l'estate consegnarla alla nostra città. L'emergenza Covid, inutile nasconderla, ha inevitabilmente condizionato le nostre vite ed ha creato un danno economico agli operatori commerciali. Voi come li state sostenendo? Come pensate di aiutarli? Abbiamo già dei sostegni che sono inseriti nel regolamento Tari che riguardano un po' tutta la popolazione residente, non soltanto le attività commerciali. Per le attività commerciali abbiamo inteso adottare delle misure specifiche con una riduzione del 35% della tariffa Tari. È ovvio che noi contiamo nel tempo, col piano industriale che abbiamo approvato, di portare anche a riduzione le bollette della tariffa dei rifiuti che sono comunque sempre onerose per i costi alti di smaltimento e per l'assenza di impianti in zona, tant'è vero che per poter abbattere i costi abbiamo avviato anche con l'Eda un dialogo che dovrebbe prevedere sul territorio di Nocera Superiore, all'altezza di Lamia, la realizzazione di un'impiantistica che riguarda gli ingombranti e il multimateriale, il differenziato. Questo ci porterà ad avere risorse che spenderemo per ridurre la tariffa. Sindaco, siamo alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico fissato per il 15 settembre, a prescindere dalla questione Covid, Green Pass ed altro. La situazione dell'edizia scolastica nel vostro comune? Devo dire che indipendentemente dalla sensibilità che oggi sembra manifestarsi sull'attenzione alle scuole, noi l'abbiamo avuta da tempo, tant'è che l'amministrazione comunale che mi onoro di guidare ha rifatto una scuola, quella di Porta Romana, adesso il 15 consegna la scuola Settembrini, è in corso la realizzazione della scuola di Pareti e poi la fresa Pascoli. Diciamo che la nostra amministrazione indipendentemente dai provvedimenti del governo ha inteso stanziare risorse e reperire finanziamenti per mettere a posto tutta l'edilizia scolastica. Al termine del mandato che mi onoro ancora di di eseguire, penso che avremo consegnato l'intero patrimonio edilizio scolastico rinnovato e antisismico.